ciao cinefusi.it oggi vi parlo di amusia un film del regista marescotti ruspoli al suo primo lungometraggio anche se ha già lavorato molto in ambito registrico in particolar modo per documentari e pubblicità questo film è distribuito dalla 102 distribution ed è stato realizzato con il contributo del ministero dei beni culturali e della regione emilia romagna film commission e vede come protagonisti due giovani carlotta gamba e giampiero de concilio sono affiancati dal un nostro attore molto bravo che è maurizio lombardi e da fanny ardan che presta il suo volto e la sua persona al ruolo della madre di carlotta gamba la protagonista del film si tratta di una storia d'amore e una storia d'amore tra questi due ragazzi appunto carlotta gamba e giampiero de concilio ed è una storia d'amore particolare perché probabilmente il film ci fa proprio capire che l'amore è in grado di superare ogni cosa infatti la protagonista livia carlotta gamba appunto è affetta da amusia ovvero una malattia cerebrale che non consente al cervello umano di riconoscere la musica sentendo solo dei suoni indistinti questa ragazza è discriminata diciamo per questa sua peculiarità discriminata in primis dalla sua famiglia soprattutto dal padre appunto maurizio lombardi che è un compositore quindi per lui è probabilmente una cosa terribile avere una figlia che non riconosce la musica ed è proprio il padre che nonostante ami tantissimo questa questa figlia la chiama anche se in modo affettuoso mostro e tenta in tutti i modi di trovare un determinato brano musicale che possa essere di jazz di musica classica o di qualsiasi altra cosa perché lui è convinto che almeno una tipologia di musica la figlia sia in grado di riconoscerla quando invece questo non accade proprio per questo motivo per questo questa pressione che lei sente soprattutto da parte del padre perché invece la madre fanny ardan la accetta per quella che è questa ragazza scappa e lungo il suo cammino lungo la sua fuga trova giampiero de felice che è un ragazzo che ha avuto anche lui un passato difficile i suoi genitori sono morti e ha trovato nella musica la sua ancora di salvezza quindi queste due persone che potrebbero sembrare a primo acchitto incompatibili invece si innamorano e si morano proprio forse perché sono così diversi e riescono perfettamente ad incastrarsi ad incastrare le proprie anime e a comprendersi molto profondamente il film è molto interessante perché è soprattutto è interessante come viene trattata proprio la musica e anche i silenzi i silenzi sono anche fondamentali all'interno del film anche se anche se appunto il tema è proprio la musica cioè il fatto di non riconoscere la musica così come è importante anche invece proprio la musica inoltre ha una fotografia strepitosa questo film che è affidata a luca bigazzi che non per niente detiene il record come quello che ha vinto il maggior numero di volte il david di tonatello come direttore della fotografia ed effettivamente la fotografia di questo film è veramente affascinante non solo anche i luoghi che vengono scelti dal regista per le location che vengono scelte dal regista per ambientare questa storia d'amore sono sono molto particolari sono molto razionaliste gli ambienti sono sempre rarefatti diciamo che penso che il regista sia anche un profondo conoscitore dell'architettura anche soprattutto di un certo tipo di architettura l'architettura quasi che ricorda le atmosfere dei quadri di di giorgio de chirico un architettura rarefatta ci sono delle scene meravigliose che vengono ambientate nel cimitero che è stato progettato da da un architetto italiano contemporaneo tra i più famosi che è aldo rossi e e in questo senso l'architettura si rivela proprio non solo come scenografia come sfondo ma anche come proprio condizione e imprescindibile per la riuscita e la comunicazione attraverso le immagini del film del lungometraggio quindi io vi invito a vedere questo film che trovo ho trovato veramente molto interessante anche nell'uso per esempio dei colori nell'uso del del rosso che caratterizza un po la protagonista e nell'uso del blu che invece caratterizza il il protagonista maschile quindi questa commissione commissione direi perfetta tra le immagini i colori l'ambientazione la musica e la storia rendono questo lungometraggio questo film veramente godibile veramente molto bello oltre ovviamente alla bravura dei non solo dei protagonisti ma anche dei co protagonisti quindi di maurizio lombardi che come al solito da una grande prova d'attore e di fanny ardan che non ha neanche bisogno di di presentazioni o di spiegazioni quindi appunto vi invito sicuramente a vedere questo film e se vi è piaciuto questo video mettete mi piace alla pagina facebook o instagram di cinefusi.it o al canale youtube o meglio ancora iscrivetevi al canale grazie e buona visione